ciao ragazzi ed eccoci qua su mario karts 8 deluxe per la nintendo switch e finalmente come state vedendo in una qualità maggiore grazie tutto questo al game capture ebbene ragazzi oggi faremo una sfida su un giocatore e prova a tempo particolarmente su una pista allora io scelgo sempre tutte le impostazioni sono fatte perché di solito io utilizzo questa macchina e oggi proveremo faremo due gare non so come si chiameranno due prove a tempo su questa gara allora facciamo corsa individuale o corsa fantasma io ancora non ho fatto niente sinceramente facciamo corsa individuale via ok iniziamo ragazzi se avete una nintendo switch e se avete anche un mario kart 8 deluxe fatemi sapere che tempo fate voi su queste gare io ho due possibilità vediamo allora siamo partiti bene allora sinceramente sì siamo partiti bene mi sto un po allargando non so se prendo quei speed meglio no facciamole così le curve allora vediamo un po il tempo che riesco a fare comunque stavo dicendo se anche voi avete una nintendo switch e con mario kart fatemi sapere che tempo fate voi in questa gara sotto qui sotto nei commenti allora io non è che sta andando tanto male il primo percorso l'ho già fatto possiamo dire sì no fatto male vabbè ragazzi li potevo utilizzare tranquillamente funghetto ma vediamo di utilizzarlo nella prossima gara tanto abbiamo due possibilità allora vediamo vediamo intanto questa è un giro molto probabilmente di prova perché sarà andato non penso male però maluccio perché ho sbagliato qualcosa allora eh sì ho sbagliato qualcosa ragazzi sta andando fuori pista sto facendo un casino speriamo che la prossima vado bene allora io potrei tranquillamente eh sì mi rimane un funghetto ed è l'ultimo giro vediamo ragazzi perché sinceramente non lo so questa gara possiamo dire che è pessima allora ok 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 le derapate funzionano io alle derapate però tocca stare attenti ormai eh no ormai abbiamo perso abbiamo fatto possiamo dire due minuti dai due minuti quindi nuovo record e certo non ho fatto mai una corsa a tempo quindi allora 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 vuoi caricare sì perfetto perfetto vediamo un po' adesso contro il fantasma vediamo se adesso riusciamo a fare meglio ok è impossibile riusciamo a fare il fantasma quindi andremo così speriamo che me lo fa vedere però no non me lo fa vedere che peccato allora vediamo abbiamo fatto prima un minuto e cinque ah no eccolo il fantasma e cinquantotto vediamo di fare meglio allora tu stronzetto vai affanculo ecco come vedete un po' sono in vantaggio e mazza come mi recupera allora fammi pensare fammela prendere stretta stretta e qui anche ecco meglio così è meglio ragazzi che ne pensate allora ok perfetto mi sembra più che ok grande ok dai in un secondo meglio di niente allora fammi concentrare parlerò proprio poco perché non mi concentro ok forse vediamo se ho fatto bene a prendere quella l'ostacolo quella salita come si chiama allora allora dai stiamo riuscendo a far qualcosa vedo eh è la prima volta che faccio le prove a tempo con la nintendo switch quindi ragazzi datemi un po' di tregua nel tutto allora qui ci siamo abbiamo fatto meno due secondi questa volta come vedete dalla minimappa sto in gran vantaggio proprio ed è l'ultimo giro dai 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 buono buono mi piace come risultato mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo olè un minuto e cinquantaquattro ragazzi il mio record per ora è questo fatemi sapere il vostro record è qui sotto nei commenti se avete a nintendo switch perché mi piacerebbe fare tipo una sfida contro di voi quindi veramente mi piace se volete un altro episodio del genere perché a me piace sinceramente a fare le sfide con voi soprattutto se avete a nintendo switch e quindi ragazzi se volete un'altra sfida così collegare a tempo lasciate 10 mi piace per un prossimo episodio su mario kart allora ragazzi qui ok vuoi caricare i nuovi dati fantasma no purtroppo no quindi ragazzi per questo episodio è tutto e comunque veramente sono contentissimo di poter registrare con la nintendo switch perché farò molti video ragazzi farò molti video aspettate nel canale che usciranno una marea di video sulla nintendo switch io vi saluto chi non è iscritto iscriviti subito il canale di telegram è qua sotto in descrizione infatti tutti i contenuti sono tutti lì in anteprima io vi saluto e ciao 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 ciao